Scusate, la costruiremo assieme. Quella di adesso è mia, che non farà più niente, sì. Non usurre i suoi grandi contributi comunali, eccetera. Assolutamente no, questa può... Comunale, no. Allora, se non... Allora, posso? Adesso, posso rispondere? Sì, sì, sì. Allora, le ripeto ancora, ma... Voglio essere molto amesto, già che vi faccio questa domanda. Nella mia vita sono stato abbastanza fortunato e ho lavorato tanto. Sto abbastanza bene, guardi. Per fortuna, sono stato anche molto fortunato, no? Non ho bisogno di venire qua a guadagnarmi soldi a Tirano. Gli ho guadagnati da altre parti. Però sicuramente sarei un pazzo a non voler far guadagnare la società che farà l'operazione. Non lo farei mai. Una società è fatta per guadagnare. Quindi la società dei cittadini, che non sarà solo mia, ma sarà di... Spero di tanti... Perché tanti parteciperemo assieme. Guadagnerà quanto? Dal turismo. Cioè, si pagherà strutture con dei mutui e con dei soldi propri. Alla fine, non so, dei 15 anni, a fine del mutuo, io spero che guadagnerà e guadagnerà tanto. Davvero. Beh, beh, beh. Lui non ci crede, però... Qualcuno magari è stato qui. Ecco, per molto ci stai. Ecco. Vediamo una serata. Grazie. Grazie. Grazie.